Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di Wolf's Time The New Order Riprendiamo da dove avevamo lasciato il nostro protagonista che era su un treno ormai distrutto Per riuscire a trovare questo personaggio da poter prendere i codici per andare alla base di un'area Vediamo un po' di riuscirci superando le varie visite di suddini Allora, bene, io direi che possiamo andare avanti Vediamo un po', qui non c'è niente, non c'è il vuoto Di qua, allora, e vediamo qual'ha Allora, si fa prendere un colpo di volta questa, va bene Ricarichiamo, grazie Ok, vediamo cosa ci propone 20 di energia, l'ipterlo a mente Vediamo un po', è molto aperto qui È molto aperto Vediamo di non cadere Benissimo, per esempio Io andrei così Bene Ok, li ho finiti È già qualcosa Cambierei arma, andrei su una rosa diversa Adesso andrei con questa Ok Benissimo Quasi finito, ma è morto Perfetto Chi è che mi spara? Ah, è questo Interessante Allora, vediamo un po' Non ce l'abbiamo fatta Adesso andremo di questo Va bene Perfetto, ho ucciso Adesso posso, con tutta calma Cercare di prendere munizioni Tutto quello che è possibile C'è ancora qualcuno che cerca di spararmi Non so chi Ho capito Va bene Dopo ci andrò a vedere Ma prima voglio salire Vedere se c'è qualcosa di buono Bene È tutto aperto Quindi Possiamo tranquillamente Provare a prendermi Io andrei con il peccilino Che siamo più tranquilli Allora, aspettiamo Vai Così Benissimo Questo è andato Schiappa la tappa Vediamo se esce fuori la capocchia 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 Non c'è la capocchia Ce l'ho rinunciato Allora, questo Questo Allora Li prendiamo? Sì, li sto prendendo Ma Facciamo Un'energia incredibile Cosa avete mangiato Precetto Accidenti Ok, questo è morto Questo è morto Questo Morirà subito Se resta altro Lo seguirà A ruota Se la fai morire Oh, grazie Quando è un secondo Perfetto Direi che Ho fatto una piccola strage Bene Andiamo a vedere Cosa c'è Rimasto di buono Qui Un po' di grazie Poi cos'altro Vedo Oh, questo mi è piaciuto parecchio Benissimo Lì scendiamo di nuovo E prendiamo un po' di cose E niente Andiamo avanti Ops Non era questa la direzione giusta Da prendere Forse di qua Grazie Molto gentilo Neanche Niente Direi che devo andare Per forza Sopra Non c'è altra Soluzione Andiamo sopra Scavacchiamo Dove dobbiamo andare Allora Di qua sono venuto Non c'è niente Non è stato indietro niente Va bene Andiamo avanti Andiamo avanti E Proseguiamo Io andrei A prendere Qui dentro Qualcosa Ma prima Eh no Me l'ha preso Non lo volevo prendere subito Perché mi serve Qualcos'altro prima Grazie Molto gentile Fammi salire Grazie Non mi fai andare Va bene E niente A sto punto Lo prenderei E vediamo se riesco A Andare Avanti Senza troppi Toppi Ok Qui c'è un sacco di bella roba Benissimo Grazie Molto gentile Quanta bella roba Che ho trovato qui Mi serviva Tutta Perché Ero Un po' Corto di munizioni Devo dire Mi servono ancora i missili Per l'arma secondaria Che non erano male Quelli Questo no Qui Non mi sembra niente Di particolare Soliti medikit Andiamo a vedere sopra La bomba Sono a pieno Possiamo andare sopra Va bene Ancora medikit Mi ne sta dando tantissimi Questo vi fa preoccupare Vi fa pensare Perché ci sarà Veramente da Sparare E quindi Cercheremo Di tenersi alla mente Ok Munizioni Per fortuna Non ne ho usate Tante Di munizioni Di quel fucilo E quindi Dovrei essere Abbastanza Messo bene Però Ah Io questo Non l'avevo visto Eh purtroppo Mi ho abbandonato L'arma Pazienza Eccolo Il vagone Del London Nautica Eccolo Il ricercatore Capo di Dead Che deve andare Sulla luna Va bene Sto venendo a prendere Di fottuto L'azista spaziale Eh Sì Lo stai venendo a prendere Fammi vedere Prima che tu lo vada A prendere Se c'è qualcosa Madonna stavo cadendo No Meno di no Dunque Qui mi fai andare qua Quindi vuol dire Che c'è un motivo Se io posso andare qua Vero Ok Madonna mi sto facendo Minire i colpi Questo Ok Apriamo Il Posto Perfetto Oh quante belle cose Grazie molto gentilo C'è un sacco Oh Finalmente E qui c'è anche un potenziamento La cosa Mi aggrada parecchio Farei così Perché non l'ho aperto Cosa c'è che non va Qua Ok Cos'è questo potenziamento Vediamo Subito leggiamo Il laser E' stato potenziato Con un mirino Che permette di tracciare Puntare E colpire Contemporaneamente Diversi bersagli E' una cosa Veramente ottima L'uso del murino Consuma più rapidamente La batteria Del laser Va bene Con il mouse 2 Ma è una cosa bellissima E' stupendo Bene bene Mi fa piacere Vediamo Oh Cosa vedono i miei occhi Finalmente Il fucilo Da cecchino E' una cosa meravigliosa Lo vorrò usare Senza meno Mi hai fatto prendere Un colpo Ecco Scusa Mi hai fatto prendere Paura Ok Benissimo E' andata più 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 che bene Ah questo è il mio Amico Ti scrivo Dunque Io devo andare Là Quindi Cambierei Zona Qui Sono venuto da qui Giusto Vediamo se mi dai qualcosa Da fare Per andare sopra No Qui non c'è Niente Alla fine Da andare No Mi fai neanche andare Qua Volendo Posso andarci Però Non ho capito bene Se devo No Quindi Allora Ops Devo capire bene Come arrivare qui E io non Lo vedo Praticamente Dovrei fare Un giro lungo Molto lungo Forse ho capito Benissimo Ho credito di aver capito Devo entrare di nuovo qua Scusate Sono un po' distratto Qui c'è anche Una cosa bella Quindi devo andare di Qua Ok Andata Ehm Da qui i nazisti Sembrano formiche Su un formicaio E lei ha il bastoncino Che le indisturba Eh già Perfetto Sono pieno di munizioni La cosa è molto positiva Perché Perché Non è che la posso rompere No eh Peccato Perché Eh ci Scusate Ho sbagliato di nuovo Non male che questo sia Autodicarica Adesso Il potenziamento Che c'è stato Ehm Via Bene Non mi sono fatto Troppo male Munizioni Ancora Oh le ho prese Sono felice Ehm Sì Sto cercando Di non ammazzarmi Possibilmente Qui altre munizioni Bene Grazie Molto gentilo Eh Andiamo avanti Qui Sono pieno Sì Sono pieno È una cosa molto buona Ehm Sì Queste non me le fa prendere Perché sono pieno Eh Andiamo avanti Ok Mi da un overdrive Potrei sfruttare A mio vantaggio Potrei sfruttare A mio vantaggio Vediamo Allora C'è molta Roba Ma dove Cavolo è Ehm Ehm Eh cavolo Ho sbagliato Ha ragione anche lui Io andrei di questo Perché non mi fido molto Oh mi fai Mi fai Mi fai la Bella cosa Scusa 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 Ah ok È morto E c'è morto malo Ehm C'è uno già morto lì Ehm Cosa mi Fa strano Sarà Sicuramente Un bergo Ok Ehm Io sapevo che c'era qualcuno Qui Ehm Accidenti No Ma è fortissimo Sono morto Sono caduto Purtroppo Non me l'aspettavo Che arrivasse Quel Tipo di Nemico Adesso che lo so Cercherò di Agire di conseguenza Mi serve Lo sparamissili Senza meno Va bene Proviamo a Tanto mi ha fatto Continuare qui Benissimo Lo sparamissili Assolutamente Mi serve Quanti ne ho? Quattro Un po' pochi Quattro Non sono sufficienti Per fare quello che devo fare Ehm Vediamo un po' Ok È morto Beh Alla fine È stato sufficiente Meglio così Meglio così Vediamo un po' Ok Questo è morto Beh Alla fine Non è così Improponibile Una volta Ucciso quello È abbastanza facile Vorrei cantare Mi trovate più fretta Perché È la volta che Quando muore Questo Dai su 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 Vai Forza Questo è quello Forte Maledizione Perfetto È morto Che questo Ehm Mi servirebbe Senza meno Questo Ecco Adesso Ragioniamo Ok Grazie Molto gentilo Non riesco a prenderlo È difficilissimo Accidenti Oh mamma mia Cosa ho visto Ehm Mi fa piacere Che tu sia qui Però io vorrei andare qui Un attimo Ok Andata Qui c'è un altro Vero di questi Potentissimi Ok Vediamo un po' Purtroppo la mira È quella che è Benissimo Non vedo niente Vediamo un po' Finché lo prendo Non dovrebbero esserci I problemi eccessivi Non dovrebbero Aggiungermi Ok Lo dovrei aver mazzato Ma sono felice Andiamo avanti Più che posso Bene Non è stato Così male Mi è prestito Abbastanza Ehm Direi Che Qui c'è qualcosa Non è sempre Lo stesso Allora Eccolo qui Beh dai Ce l'abbiamo fatta Abbastanza agevolmente Ne sono abbastanza felice Vediamo se ho lasciato Qualcosa indietro Adesso con tutta calma Esploro Non c'è niente Anche se mi si illumina tutto Perché c'è la luce Qui c'è l'armatura Io ho ancora Un po' Di roba lì Beh dai E' andata piuttosto bene Questo era morto Poverino Mi dispiace Andiamo pure Vediamo se posso Prendere un po' Di roba Perché ne ho usata Tanta Eh Laggiù c'era sicuramente Da prendere Oh guarda Che bello Che bello Che bello Sono felicio Oh ma c'è una marea Di energia Eh si ho visto Non so come fare Per ammettare questo Proverò con questo Vediamo se funziona Eh vabbè Dove sei? Vabbè Alla fine è stato facile Mamma mia E hai fatto un gran confusionario Ok Io sono felicio Ce l'ho fatta Alla fine non è stato Così difficile Eh chi è che mi sta sparando? Se non facesse tutto colfumo Con la macchina Sarei molto più felice Ok Ho preso anche l'overdrive Posso permettermi Di fare un giretto Eh si è però Io posso permettermi Di farmi un giretto Ma non così tanto giretto Perfetto No Alla fine mi ha ucciso Lo stesso Un overdrive di 180 Come ha potuto fare Una cosa simile Va bene Ho capito Comunque il checkpoint L'avevo raggiunto Eh niente Mi tocca mettermi a riparo E farli fuori Uno per uno Troppo Non me lo aspettavo Che mi arrivassero All'improvviso Così tanti Mi hai fatto ricominciare da capo Sei molto cattivo Molto No no Non lo faccio Sì ma lo faccio Da capo Accidente lui Ok Eh scusate Dai Dai Perfetto Andata Eh scusate Ecco qua Va bene Non è andata Malissimo Questo lo posso prendere Per ammazzare questi Se riuscissi A vederli Bene Ok Questo Ok Alla fine Si fanno bene Loro Dai Si fanno bene Basta Stare attenti A come si usano le munizioni E Il gioco è fatto Perfetto Non vedo niente Ok Questa è andata Eh facciamo così Intanto si è già caricata Benissimo Eh direi che facciamo così Perfetto Andata bene Benissimo Aspettiamo che si carichi un po' Allora Dobbiamo fare una bella cosa Mamma mia Che sicuro che gli ho tirato Eh credevi eh Ok Gli ho tirato via qualcosa Adesso andrei di Eh prepotenza Così Andrei giù E Piano piano Lui c'è di tutti Vai 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 Così così Lo riesco a prendere Ah questo è quello colazzato Non c'è problema Mi stai facendo fare Un grande Confusionario di cosa Ok Ok Perfetto Si è fatto mare da solo Ottimo Continuo a prenderlo Senza problemi Senza ritegno Oh Lissio Ok Lo sto prendendo Lo sto prendendo Non vedo niente Grazie a lui Ok Ok È morto anche questo Eh beh dai Sono morti abbastanza Tu Tu Non vuoi morire Eh Bisogna farà fare così Bisognerà Ok Vabbè è morto Ho posto Allora Incominciamo a riprendere la roba E stavolta Eh La voglio mettere qua Bene Ah Me l'ha tolto questa roba Va bene Lo stesso Io ho Un esubero di Scusate Ho sbagliato Pulsante Armatura Eh Questo è Medikit Questo mi permette Di ricaricare questa Ma Ma Viena Beh non è male Vederlo qui Eh Potrei Usarlo a mio vantaggio Andrei un po' Avanti Mi fa ritornare qui No Cattivo Non lo fai Se io vado giù Vediamo un po' Eh Vediamo In teoria si Vediamo un po' Forse ce la faccio Vediamo se riesco A portarlo a mio vantaggio No Perché è già qui Dove è una fatta Proprio posto Eh vabbè È andata così Eh Lo ho visto Beh forse ce la faccio Dai non è andata malissimo Alla fine ci sono riuscito A ritornare qui Eh non è male Perché io adesso posso fare così Vedi Eh già 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 Molto 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 bene Così posso fare una strategia Basata su L'attacco E la difesa Vediamo un po' Non vedo nessuno Ci voglio provare Non è male La possibilità Di farlo Vediamo un po' Che se tu mi fai andare Ogni volta È un po' brutto fare avanti e indietro Eh ma almeno Sono più Tranquillo Ops Ops Eh no Era qua Scusate Ecco qua Sì sì Arrivo arrivo Non ti preoccupare Che sto arrivando Ecco qua Adesso Con calma Andiamo qua E questo è andato Perfetto Lui me l'ha usato tutta Ma io la ricarico Senza nessun rispetto Senza nessun ritegno E così possiamo tranquillamente andare Almeno Sono in vantaggio Un pochino Vai Eh sì Così fa molto prima Bene Potrei anche andare Volendo No 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 Tu non mi piaci È meglio ricaricare subito Perfetto E vediamo cosa succede Facendo così Vai Lo dovevo ripreso Abbastanza Ok Vediamo un po' Vediamo Ricaricati Grazie E questo è veramente Coriaceo Vediamo un po' Se l'ho ammazzato Ancora no Ormai dovrebbe essere Quasi morto Eh Questa è dura Perfetto Ah andato Andato Bene bene Possiamo andare A cambiare arma Perché questo qui È morto Adesso Stavolta ce l'abbiamo fatta È stata una tattica Un po' così Ma è funzionato Da qui Ehm Ce ne sono altri Mi vorrei riparare E mettere in modo Che non mi facciano Troppo male Non lo vedo Perché Accidenti Non me lo fa Mirare Non riesco a vederlo Non capisco lui Come faccia a vedere me Ah è qua Eh Questo è quello forte Mi sa Eh Mi toccherà usare Ancora questo Dove sei? Non ti vedo Eccolo qui Ok Andata? No Non ancora Eh Eh Proviamo Dunque Se me lo fai vedere Sì Era qua Ok Andiamo un po' Non ci sei più? Eh Avevo visto qualcosa Ehm Ecco qua Perfetto Ah C'è molta roba in giro Eh Ne approfitterei Senza nessun rispetto Bene Quello lì Dove essere morto Perché non mi ha più scocciato Eh C'è altra gente Ma Si fa bene Si fa bene No Dove vai? Ti vuoi nascondere? No Non sei Eccolo qua Andata Va bene Ce l'abbia fatta E ha salvato Eh Aspettate un attimo Che vorrei Pensare questo carino Lui si è messo giù Ma Non ce la potrà fare Sempre Ok Andata Andiamo pure avanti E vediamo Chi E cosa Ci aspetta Eh Ci aspetta che questo Ho l'idea che Dovrò Usare L'arma forte Eh Accidenti Ma è fortissimo Ma Quanto è forte? È molto Troppo Forte Veramente Troppo Forte Quanti colpi Devo Dargli Ma è incredibile Veramente troppo forte Non capisco Come sia possibile Io la prenderei Questa Medikit Alla grande Anche Questo è carico Ma Gli ho sparato Una salva Intera E anche di più E non è crepato È incredibile Incredibile Alleluia Cioè Ci è voluto Veramente Una cosa Esagerata Per riuscire a Buttarlo giù Perché non me la prendi? Grazie È molto gentile Saresti gentile Se me la prendessi Si è C'è Il litbox È veramente Terribile Non me la fa neanche prendere Dai Che mi serve Mannaggia Va bene Ho preso tutto Devo andarli per forza Vediamo un po' Di prendere altre cose qui Tu mi dai solo quello Ma non mi interessa Però Ho detto che non mi interessava Però mi interessava La tua armatura Ok E non è tanto Però Però Me la faccio bastare Adesso vediamo Di sotto Oh che bello Ce l'era dell'altra Vediamo cosa possiamo fare Perché lui mi ha Veramente destabilizzato Mi ha tolto Tantissima energia E Scusate Ho sbagliato Pussante Non mi tirare la bomba Perché sarebbe proprio Cattiva Dove cavolo è andato Cos'è che vuoi Non l'ho capito bene Scusa Non ho sentito Eh Cosa vedono i miei occhi Va bene Adesso vengo Adesso vengo anche Di terra Vengo anche Di terra Chiappa la talpa Chiappa la talpa Chiappa la talpa E la talpa è andata La talpa Eccolo qua È andato anche lui Benissimo Dai Adesso Qui abbiamo caricato Qui abbiamo caricato La roba Siamo Siamo a cavallo direi Il gioco vuole che vada qua Il gioco vuole che vada qua Vediamo un po' Ops Ehi capitano Sì Sì Allora Ho trovato un punto sicuro Per lasciarla vicino Al vagone del nautica Attraversi il posto di blocco E mi raggiunga fuori Al passaggio sotto il ponte Va bene Ti raggiungerò lì Oh porca miseria Eh sì Io ho scaricato Tutto il mio Armamentario Per lui E come lo batto adesso Devo aspettare che Va bene Eh ci sarà Da divertirsi Fammi vedere se sto Cecchinaccio Va Allora Oh come mi è piaciuto Io ti sto prendendo In testa Sempre Ah è andato via Ecco Io ti prendo sempre in testa Dovrei farti più male In testa Vai Oh Adesso lo agiamo Purtroppo ho finito Il proiettile del fucile Da cecchino Ovvero mi dispiace Tanto Però Adesso Dovrei riuscire A prendere Sì Ce l'ho fatta Bene Dai Non è andata male Non è andata Sono abbastanza soddisfatto Chiappa la talpa Chiappa la talpa La talpa è chiappata Bene bene Sono contento alla fine Perché La cosa non è andata male E' andato piuttosto bene Devo dire Ne sono abbastanza soddisfatto Bene 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 Vediamo un po' Scusate Mi sbaglio sempre Ok Apriamo Benissimo Direi Ottimo Più che bene Vediamo un po' Di prendere tutto C'è sempre la stessa roba Benvenzione Ok Non c'è niente Un sacco di casse Poca roba utile Vediamo un po' Niente ancora Ci sarà qualcosa di buono Solo robaccia Robaccia Eh meglio di niente Sicuramente è niente Perché non c'è nulla Eh no Ho tirato il coltello Accidenti Ho tirato il coltello Che mi serviva Allora Prendo subito Eccolo qua Niente Non c'è nulla Di veramente buono Sì ho preso questo Che per carità E' buonissimo Oh va bene Va bene E' andata bene Dai Ho un'ottima armatura Adesso posso andare Lui purtroppo Non mi ha dato tanto Ma Alla fine E' sufficiente Va bene Allora Proseguiamo Questo lo posso ricaricare Volendo sì Ma portarselo dietro E' veramente pesante Perché è veramente Ingombrante Proviamo a vedere Ok Mi ha dato una pt armi Molto gentilo Vediamo un po' Qui ci sarà sicuramente Tanto Tanto Bordello Va bene Vediamo un po' Beh alla fine Ce l'abbiamo fatta Bastato bene Certo per quella volta Ma Aia Io non penso Che lui mi faccia saltare La Quindi ci deve essere Un metodo Tipo qua Esatto Va bene E' Gioco dimmi qualcosa Non vedo nessuno Ma come è possibile Ops Ok Andate Mamma mia Non me l'aspettavo Titta sta gente qui All'improvviso Siete cattivi Ma no Ma si Così Non va bene Siete riusciti All'improvviso Vabbè Vabbè ragazzi Direi che ci possiamo Anche salutare Faremo con calma Nel prossimo video E andremo Finalmente Da questo Sergente Generale Non so Non ricordo bene Niente Per adesso Vi saluto Da Shiva Fatemi sapere Con un like Con un commento Se vi piace il video Se volete Avete qualche idea Qualche suggerimento Sono sempre aperto Da ogni dialogo Bene ragazzi Vi saluto Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao